bella raga ciao a tutti raccomandone veneziano siamo su call of duty siamo a livello 24 e siamo pronti a giocare raga non ho caricato molto perché fio e se voglio ricominciare anche le live che sto decidendo se sul tubo se fare sul tubo solo i video e su twitch le live ho problemi alla schiena quindi non sto benissimo mi faccio molta fatica però insomma quando posso quando riesco mi cerco di registrare qualcosa e vuole giocare a code siamo a livello 24 avevamo al vento ho giocato pochissimo in quest'ultima settimana però vabbè siamo a gun runner ok vedete ma c'è squadra sapete che questa è la mia modalità è la modalità come indietro fino alla foto delle buone partite come ratio diciamo non ho un ratio non è orgoglioso però è chiaro che ho delle partite dove faccio anche 0.40 guarda che bella la mia armetta vai andiamo pronti a spaccare il pulizzo let match a squadra datevi da fare fate onore alla compagnia ok oh no oh no ma non si deve essere pre crisis ottengo tanto non ci ce ne ho fatta siamo tranquilli basta cederne uno per essere fettici sono rimasto fermo e mi ha inculato giustamente in maniera molto corretta bravo vecchio nemico vicolo sul retro molotov lanciata ho due molotov e non sono riuscito a fare un cazzo bene ua v alleato online nemico lungo i binari abbiamo perso il comando vabbè certo controlliamo la battaglia ne ho persi due nemico conto di sfiga in questa mena dove lo becco la mamma mia nemico inizio di siamo indietro impegnatevi di più la mena svegliata radar personale puoi nemico in volo tutti di spalle lì becco va bene puoi nemico in volo Fantastico no non non c'è niente da fare, in qualsiasi caso UAV nemico in volo partiti bene bene no di coge attacco a grappolo nemico al riparo nemico nessuno missi da cruis nemico in arrivo nemico c'è miniera ma dio povero niente sto prendendo tutte le scelte sbagliate sto prendendo tutte le scelte in più sbagliate sono nemico tutte le facette le scelte no in due e un muro Ehi, mi ha aspettato proprio. Oh, che bastardo! Mi ha fatto solo dimenticare, eh? Oh, è a metà strada. Forza! Dopo rispondo. Mi dico, parta a caldaie. Mamma mia. RADAR PERSONALE NEMICO ONLINE! UAB NEMICO IN BOLO! Subito, in due, sempre due contro uno. Benissimo. NEMICO IN BOLO! NEMICO IN BOLO! NEMICO IN BOLO! Sono un po' feoce. NEMICO IN BOLO! Mi devo ricaricare! Addio! Clamore, piazzata! Oh! Ah, se sto fermo mi beccano, evviva! Abbiamo anche uno l'ho fatto Non mi ricarico, addolto Molota, flacciata! Non c'è qualcuno... Vai che ogni tanto ne becco qualcuno Ti seguo? NEMICO CONTAINER DI CARICO Radar personale nemico online Ciao paparino Ogni tanto da un po' di pava Bua via, alleato! Non ci credo Non ci vedo, vado, vado MENO DI UN MINUTO MENO DI UN MINUTO MENO DI UN MINUTO MENO DI UN MINUTO Yes! Nemico! Marile! Ah, ma l'avevo... Ho scaduto! Avevo una grande squadra, poi ho bisogno di una strada forte perché non sono niente di chi. Bravo, bravo! Chiudo a 0.59, ahiaiai! No good, no good! Ok, facciamo un'altra, siamo a livello 25, però ragazzi, anche voi datemi qualche consiglio magari su cosa fare, su come migliorare un po' il tutto perché faccio difficoltà. Faccio difficoltà a essere, diciamo, picca a dirgli, essere costante, diciamo delle partite che posso fare uno, due, anche di ratio e altre 0.40, cioè... Infatti, vediamo... Infatti il mio ratio è 0.76, cioè... Forse faccio l'1, il 2, ma faccio anche 0.30, non ho... Come si dice, non ho mezzo misuro, non ho uno standard di 1, magari, che... Con uno puoi fare anche bene, ma... Se si fa in 0.59 o è una squadra forte sicuramente non vinci la partita. Io ci provo ragazzi, io ci provo. Contanto che non sono neanche al 100%, anzi tutt'altro. Vai! Partenza si provo... Ah no, abbiamo cambiato. Riamazza. Riamazza. Ok. Adesso, appena possibile, veramente torno in live, eh... Adesso, ho un piccolo intervento, il... Venerdì, 15, dopo spero di recuperare anche la 1. Qua, purtroppo, ah... Facendo che farei qualsiasi cosa, diciamo, le medici devono mettere un po' su, ma... E' dura ragazzi, cosa puoi volerne? Un'attura di coglione grande. Vai! Let's match a squadre! Fuori le armi! La caccia è aperta! Ho chiedo che sbaglio! Nessuno arriva... La mia uccisione l'ho fatta, quindi sono tranquilla. Non ho parole. Perdiamo il controllo! Perdiamo il controllo! Perdiamo il controllo. No, no! No, no! 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 Entra qua. Ora abbiamo il passaggio! è una mappa anche simpatica io odio starfermo sempre da me a primo colpo abbiamo perso il comando sei una gran zoccola sei niente li vedo proprio oggi nemico incroci combate il colpo nemico perviere puttana miseria oh che fatica un falcon 3-0 ricevuto battugliamento UAV iniziato attacco a grappolo pronto a questo lo sbaglio sempre nemico la UAV è taurita winter 2-0 ricevuto attacco a grappolo in corso ma non faccio mai uccisioni così nooo sempre sta zoccola ma dai ma sempre questa non faccio neanche un uccisione col col grafo corpo a corpo vince sempre lei fatalità che ma ha fatto una buona serie ma sono tornato ricarico ricarico spara l'arono son coio UAV nemico in volo nooo no eh vedi proprio non ho la freddezza quando li so che ci si parla che stiamo prendendo quindi un'altra squadra di merda sicuramente mi sape anche il coglione di giocare con squadre di deficiente però quando so che c'è la non ho la freddezza torretta robot nemica attiva nemico bar siamo alleati la misa strada forza che cazzo sono con te e va cagare siamo alleati corpo a corpo ravvicinati attacco a grappolo nemico non ci siamo se non piazzo le claymore poi non ci sono è Mambo da planciata, mangio un ascoltante Cambio caricatore Ah, va c***o Ah, lui la ha preso Nemico, un po' Versaglio a terra Vabbè, almeno uno l'ho preso Che fattigolo, mamma mia Eh, che c***o però Eh, finalmente l'ho ucciso a stasocco Promozioni Remas Nemico, va a dare No, ma non puoi, frega Vabbè, ma dai Neanche l'asso, va bene, grazie No, no, vabbè, ma questa No, no, no Nemico, va a dare Mettana di merda Vabbè, nemico in volo Mi ha ucciso solo lei Come coglioni siamo Come coglioni siamo Bombardamento di precisione in arrivo Vabbè, alleato in volo No, vabbè, oggi non ci non c***o Vabbè, non ci non c***o Vabbè, non ci non c***o A meno la sensazione di averlo visto A meno la sensazione di averlo visto Uabbè, nemico in volo Ok La troia Uuh, scendiamola Bene Un minuto Tempo quasi scaduto Ora ho mai Nemico Bar Scusa A meno l'ho ucciso lei, cavolo Che è il buono, ma comunque Vabbè Le cose che stanno molto bene insieme U.A.V. di disturbo nemico online Me lo sono preso E una volta ogni tanto Maximum Corretta scudo nemica attiva No, ho sbagliato Avevo l'altra Avevo messo per sbagliare l'altra arma Muoversi Nemico, vicolo sul retro Tu devi spiegarmi come c***o può avermi visto subito in un secondo Brutto risultato Ma ci rifaremo Un altro risultato Diciamone un altro Che belli che siamo I nabbi come noi 0,86 Secondo di squadra Che ne ti fa capire perché Abbiamo perso insomma Ok Tumbra Quando ho scaricato un'altra No K47 Che livello? I 53 Tumbra Personalizzazione Eh grazie Shot out C***o non l'ho mai fatta questa Questa è nuova ragazzi Non l'ho mai Mai vista questa Questa mappa Che bisogna giocare tanto Quegli scarsi come me Bisogna giocare tanto Per poter Salire molto di livello Se no Demon dogs alla riscossa Ricopro io Scraggio Scraggio Copro io Bomba incendiaria lanciata Ti copro Ora siamo in vantaggio Copro io Per senso Buon vinto Maximum Cume Ciao Ho perso il comando Mi prendilo Granata partita Bomba incendiaria lanciata Grazie 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 Tu avvi in attesa Qui Jaguar 3-0 Comunità Grazie Grazie Sì Si Che Sì Se Ahia Speriamo Nemico, mi conosco il retro Codo Infatti ho una squadra forte Se la squadra è forte esco a far bene anche io Nemico, discarica Grazie Eh, là c'è un cecchino Ciao U.A.B. in attesa Qui già 430, confermato Fattugliamento U.A.B. in attesa Ciao L'attacco a grappolo pronto Incredibile, feccato L'attacco è in corso Signora partizione, eh Adesso che ho quel cazzo di robu viene da usarlo Adesso farò messa Per fare rifornimento U.A.B. nemico online Nemico, vicolo sul retro Qui l'olta 2.0 ricevuto Tacco a grappolo in corso Precatissimo No, metà strada Ok, lo usavo bene una volta su chi Che bello Che bello Basta Basta Calma Non buttiamo via un ratio bellissimo No, cazzo No, cazzo Ciao Ciao Eh, questo non mi l'ho fatta proprio Ciao Grazie Ti ho salvato No Ah Nemico, via principale Ah, però ho fatto un uccisione di mischia Finalmente 17 uccisioni Me coglioni Nemico, vicolo sul retro No, sorry boss Nemico, fango Famole Famole Eh, va bene, va bene No problem, no problem Nemico, cortile Benissimo Sto la mappa piccolina Solo ne va pegamo io, cazzo 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 di morto Dove è andato Nemico, discarica Eh, grazie Nemico, discarica Nemico, discarica No Non ci provo Va bene Yes Yes Insincredible Ottimo lavoro Ma non è finita Oh, ho una bella martia Oh Forse sarà il mio rateo migliore Incaricato Spero Questo va con cecchina Nemico, vicolo Incarico Primo di squadra 1,67 Non è il migliore rateo Ma 20,12 Ragazzi Signori Il rum Chiude Da leggenda Ah sì Per i miei standard Ragazzi Non sono tre Come il don Veneciaro Ciao